Grazie Presidente, parto dalla fine. Concettualmente con questa mozione si chiede un impegno affinché il Presidente raggiunta rispetti quanto già previsto dalla legge, cioè faccio riferimento in particolare a un decreto legge che recepisce la direttiva europea 75 del 2010, la quale direttiva introduce l'obbligo della relazione di riferimento. Che cos'è questa relazione di riferimento? È una relazione che dà il quadro conoscitivo dell'inquinamento della falda e del suolo nel sito oggetto dell'impiantistica da autorizzare. Perché è così importante? Perché serve per ricostruire cronologicamente i fatti avvenuti anche per capire quando ci sarà la chiusura, la dismissione dell'impianto, da dove si partiva come incidenza di inquinamento e dove siamo arrivati. Il quadro dei considerato e dei preso atto che in particolare fa riferimento alla procedura di valutazione dell'impianto di Scarlino, perché secondo la nostra valutazione manca questo quadro di riferimento. Però ahimè la procedura è già stata deliberata, l'autorizzazione è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza, ne prendiamo atto. Saremo anche un pochino stanchi di comunque pagare con risorse pubbliche, in particolare con questo caso di Scarlino, di come dire, l'eterno ricorso a chiusura, l'eterno ricorso ai ricorsi direi a questo punto, perché la vicenda si protrae per un po' troppi anni e sembra che ci sia un accanimento da parte della regione e dalla provincia a riattivare a tutti i costi questo inceneritore, sebbene il Consiglio di Stato con le sue sentenze abbia messo, secondo il nostro parere, una pietra sopra alla vicenda. Ma ci troveremo, speravo di no, ma per l'ennesima volta di fronte a un impianto autorizzato dalla Giunta che sarà oggetto di numerosi ricorsi e probabilmente di nuovo il Consiglio di Stato si esprimerà per richiudere o non far attivare questo impianto, così li perderemo del tempo, c'è un'incertezza anche economica perché in quel territorio gli vuole investire e non sa qual è lo scenario al quale deve far fronte. Con questo atto noi chiediamo semplicemente che, quindi un rispetto della legge, è particolare che vengano bocciate, quindi un impegno al Presidente e alla Giunta ad esprimere parere negativo a tutte le proposte derivanti dalle conferenze dei servizi inerenti alla pronuncia di compatibilità ambientale relativamente all'installazione di impianti di incenerimento o comunque ad impianti che prevedono emissioni industriali, qualora non sia stato adempiuto l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, così come previsto dal decreto legislativo del 4 marzo 2014, numero 46, denominato attuazione della direttiva 2010-75 UE relativa alle emissioni industriali, prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.